Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri In questa edizione di Occhio alla notizia Fuori d'ansia, marotta per la scomparsa di un uomo di 73 anni Di cui non si hanno più notizie da questa mattina Prosegue la campagna vaccinale anche a Pesaro Tanti gli anziani in lista d'attesa È andato benissimo, tutto a posto, è stata una meraviglia veramente Tutti bravi, quindi ho completato quello che è il mio dovere da cittadino Il barista multato a Fano si sfoga, non sono un delinquente Dovrà tenere chiuso il locale per 5 giorni Contiamo molto nelle forze dell'ordine Vogliamo che loro vengono a fare i controlli nei nostri locali Però c'è modo e modo di controllare nei posti Il comune di Fano sostituisce le panchine sul molo del Lido Ma scoppia la polemica Tra l'altro le panchine che c'erano prima non erano meravigliose Ma erano comodissime Cosa che invece non sono queste Sono di marmo per cui immagino l'inverno anche in questa stagione Oddio dire, si gira il sedere E non va meglio a Sassonia dove il degrado avanza sotto gli occhi dei passati Si sta a sgretellare Il ferro si sta a spaccare, spacca completamente il cemento E questo è il suo campo di lato Benvenuti a questa edizione della telegiornale Occhio alla Notizia Oredì a pensione a Marotta di Mondolfo per la famiglia di Olvidio Boschini Un 73enne scomparso da casa questa mattina intorno alle 9 A lanciare l'appello sui social è stato il figlio Andrea Che in un post pubblicato su un gruppo Facebook ha scritto Non riusciamo a trovare mio padre E' uscito a piedi con un cagnolino Indossa un cappotto e pantaloni scuri Probabilmente anche un cappello Non riesce a parlare Se qualcuno lo avesse visto è pregato di segnalarlo Andrea ha poi aggiunto che il genitore abita davanti alla chiesa di San Giovanni Zoppica leggermente, è alto circa un metro e ottanta Solitamente non si sposta dal centro di Marotta oppure dal lungomare Per chi lo avvistasse o avesse informazioni utili Può chiamare il numero 328 68 73 262 Al centro Monaldi di Pesaro si prosegue con la somministrazione del vaccino anti-Covid Per gli over 80 Questa mattina Angelica Panzieri ha raccolto i pareri degli anziani in coda Procedono le vaccinazioni agli over 80 qui al centro sociale Monaldi di Pesaro Tutto funziona in maniera regolare Non si sono create code e vengono vaccinati circa 60 anziani all'ora Mi ha fatto senso la gentilezza di questa gente che si è dimostrata molto Forse, forse queste malattie servono all'umanità per farci diventare più buone Perché ha deciso di fare il vaccino? Eh perché io ci credo Un po' di dolore? Assolutamente niente proprio Si sono messi ordinatamente in fila aspettando il proprio turno Al centro sociale Pino Monaldi nel quartiere Celletta di Pesaro La campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80 prosegue in modo regolare Ad accogliere gli ultraottantenni all'esterno della struttura I volontari della protezione civile che indicano loro il percorso da seguire Gli anziani arrivano con i moduli già precompilati Chi non ha la possibilità di stamparli a casa li troverà comunque nelle sedi vaccinali Poi una volta entrati all'interno, ognuno con il proprio numero Dovranno passare dal banco per l'accettazione Dove staziona il personale amministrativo E sottoporsi alle domande dei sanitari per l'anamnesi Terminata la consulenza L'anziano viene fatto accomodare in una delle postazioni vaccinali presenti Per ricevere la prima dose L'operazione dura meno di un minuto Il paziente si siede, riceve l'iniezione Poi resta in osservazione in un'altra sala per 15 minuti Se tutto risulterà normale All'anziano viene consegnata in seduta stante la data per il richiamo Che si terrà dopo 21 o 28 giorni A seconda del vaccino inoculato Sono bravissimi e non si sente assolutamente niente Dal punto di vista organizzativo sono stati bravi? Molto, tutto perfetto Non si sente niente, è un attimo proprio Che ha deciso di fare? Ci siamo prenotati Ci siamo prenotati tutto, così siamo tutti in regola E' andato benissimo Tutto a posto, è stato una meraviglia veramente Tutti bravi e quindi io ho completato quello che è il mio dovere da cittadino Le ha fatto male? No, 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 niente Ora devo tornare fra 21 giorni per fare il richiamo E spero che tutti quanti fanno il vaccino perché è un bene per loro e per gli altri Ma sono contenta di farlo perché voglio stare più sicuro E non ha paura? Ma che paura? Anzi, prima lo faccio e meglio è Non ha paura, non è preoccupata? Beh, un po' sì, un po' sì Ritengo che sia importante farlo ed è giusto Così la sfanghiamo, dico questa coronacità Speriamo di farcela tutti insieme Al centro sociale della Celletta è stato allestito anche un gazebo per l'attesa Questa mattina anche da parte del sindaco Ricci è stato fatto il sopralluogo Altissima partecipazione e tantissime adesioni Ha dichiarato il primo cittadino È la dimostrazione della grande voglia che in tanti hanno di uscire al più presto da questo incubo Non sono un delinquente Sono le parole piene di rabbia di un barista di Fano Che dopo la chiusura del suo bar ha affisso sulla porta d'ingresso Un cartello in cui sfoga tutta la sua rabbia Non ho mai rubato o ammazzato nessuno Non sono un delinquente Sono le parole amare che si leggono in breve sul cartello affisso da Alessio Roberti Davanti al suo locale Il bar Franco a Centinarola di Fano Sanzionato e da ieri chiuso per cinque giorni dalla polizia locale fanese Uno sfogo ormai virale in rete e pieno di frustrazione e rabbia Quello di Alessio che scrive sulla porta d'ingresso del locale Mi hanno multato e fatto chiudere per cinque giorni Solo perché a dieci metri dal mio bar c'erano dieci persone di cui quattro congiunti e due con il bicchiere in mano Che alle 18 e 20 finivano la loro consumazione Tanta amarezza e tristezza per uno che ama il suo lavoro come me E che con tanti sacrifici e notti insonni cerca di andare avanti Le leggi noi siamo abituate a rispettarle Io le rispetto Io ero lì perché ho un codice a teco prevalente alla somministrazione Ma posso anche poi vendere bottiglie intere Posso somministrare quindi Cioè non somministrare ma vendere bottiglie Posso vendere insomma lattine E posso fare a sporto quindi Perché vendo anche pizza al taglio Quindi ero lì per quel motivo lì diciamo Probabilmente loro hanno visto che io stavo ritirando dei bicchieri Che avevano finito di bere Quindi mi è sembrato proprio un accanimento Siccome c'è stata molta prepotenza Molta maleducazione E questo è quello che mi ha fatto più male Insomma Stiamo lottando per ogni giorno con i denti Per le nostre famiglie Perché noi siamo babbo Abbiamo dei figli Abbiamo dei dipendenti Quindi io non fatturerò e non pagherò le tasse Per quel periodo che loro mi faranno chiudere Quindi è solo un accanimento personale Penso più più personale Perché poi penso che chi venga a controllare È giusto che controlli Perché contiamo molto nelle forze dell'ordine E vogliamo che loro vengono a fare i controlli Nei nostri locali Però c'è modo e modo di controllare nei posti E poi spero che come da me sono venuti cinque volte Perché chiamano Non devo essere io a chiamare per tutti gli altri locali Ma sono loro che devono far rispettare le regole Perché tanto la legge poi è uguale per tutti E alla base di tutti i rapporti c'è sempre l'educazione Quello che è accaduto ad Alessio non è un caso isolato Spiega il responsabile di Ristor Italia Michele Pennacchini Per questo motivo ieri mattina abbiamo incontrato La comandante della polizia locale fanese Anna Rita Montagna Quello che abbiamo chiesto alla dottoressa è un'equità di trattamento Tra i vari locali del fanese Perché come diciamo La situazione di Alessio è un po' al limite Vediamo giornalmente e sotto l'occhio di tutti Delle situazioni nei locali di Fano Dove è insostenibile oramai Assembramenti di ogni genere Folle di persone, ragazzini e quant'altro Che consumano fuori dei locali E prendere di mira un nostro collega Multandole, facendolo chiudere A loro dire per una cosa giusta Ma poi è tutto da vedere Noi la vediamo come una disparità di trattamento Tra le varie attività Il controllo va effettuato Va effettuato bene Con i giusti criteri E con la giusta parsimonia Diciamo così Un occhio di riguardo Non nel trasgredire la regola Bensì il contrario Nel farla rispettare la regola Perché saremo tutti contenti Di rispettare le regole al pieno E così lavorare tutti quanti Perciò ben vengano i controlli Ma vengano i controlli fatti bene E mirati al punto giusto Intanto il Covid continua Il virus continua a mietere vittime Sono 5 le persone decedute Ieri nelle Marche Tra le vittime ci sono 3 persone residenti Nella provincia di Pesaro e Urbino Tra le nuove diagnosi invece Sono stati rilevati 581 positivi Ancona resta la provincia Più colpita con 274 casi Seguita da quella di Macerata Con 122 E negli ospedali ci sono 12 ricoveri in più Rispetto a ieri Per un totale di 633 Resta invariato il numero Dei pazienti in terapia intensiva Mentre sono 9 in più Quelli in semi intensiva A Vallefoglia invece Palmiro Ucchielli Ha inviato una lettera All'assessore regionale della sanità Filippo Saltamartini Per rinnovare l'invito A procedere Alla somministrazione dei vaccini 2.000 ultraottantenni Che risiedono nel territorio Dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo Negli ombulatori dei medici di base Oppure nella sede della Casa della Salute A Montecchio di Vallefoglia L'obiettivo Ha continuato Ucchielli È di ridurre i tempi di somministrazione Ed evitare lo spostamento degli anziani Nei punti di vaccinazione di Pesaro Con conseguente disagio E i cittadini che hanno più di 80 anni Avranno a disposizione Anche la rete dei postini Per prenotare e prenotarsi Al vaccino anti-Covid Poste Italiani infatti Ha potenziato la propria infrastruttura tecnologica Garantendo ulteriore supporto Alla Regione Marche Il portalettere Attraverso l'apposita funzione Prenotazione vaccini Sviluppata per il dispositivo Palmare Che è già in dotazione Per il servizio di recapito Verificherà la disponibilità In base al CAP Il codice di avviamento postale Nei centri vaccinali limitrofi Questa modalità resterà attiva Anche per le successive fasi di vaccinazione Per quanto riguarda invece Gli ATM postamat Sarà sufficiente inserire La tessera sanitaria Digitare i dati richiesti In modo semplice e veloce E ritirare il promemoria Con i dettagli della prenotazione Ed è partito Cambiamo argomento Oggi nelle Marche Il ciclo di incontri Dedicato all'agricoltura Il presidente Acquaroli E il suo vice Mirko Carloni Incontrano gli operatori Del settore Per raccogliere Istanze e consigli Cinque incontri Uno per provincia Dedicati alla raccolta E all'analisi Delle stanze Che provengono da chi opera Ogni giorno Nel sistema rurale Con questo obiettivo Oggi pomeriggio Ha preso il via Il ciclo di incontri Intitolato Ascoltiamo il territorio Condividiamo il programma Che proseguirà A Monte Giorgio Castelraimundo E Montalto Delle Marche Per poi concludersi Al convento del Beato Sante A Monbaroccio Giovedì 4 marzo Il percorso di condivisione È stato organizzato Dalla regione In vista delle missioni Dei prossimi bandi Contributi utili A migliorare L'utilizzo Delle risorse Che potranno sostenere E sviluppare Un territorio regionale Gravemente colpito Prima dal sisma Poi dagli effetti Della pandemia Sì abbiamo iniziato Questo ciclo di incontri Per ascoltare le imprese Per avere da loro Delle indicazioni Sulla prossima programmazione E in qualche modo Per condividere Un percorso Che è quello A cui noi teniamo tanto Di sviluppo rurale Che ci vedrà Protagonisti Per i prossimi due anni Con un finanziamento Straordinario Importante Da parte dell'Europa E un cofinanziamento Della regione Che vale circa 170 milioni di euro Per il biennio 21-22 E quindi dobbiamo Condividere Con le persone esperte Ma anche con gli agricoltori Quelle che sono Le migliori Iniziative Di finanziamento Dell'agricoltura Facendo tesoro Degli errori Del passato E cercando di creare Sempre di più Un valore Per fare in modo Che chi fa Impresa agricola Ne traga Un vantaggio economico Gli appuntamenti Saranno fruibili Se in presenza Che online In diretta Sui canali Facebook E Youtube Del PSR Marche E adesso andiamo Sul molo Del Lido di Fano Dove il comune Ha deciso Di cambiare Le panchine Ha sostituito Quelle vecchie In legno Con quelle più nuove Ma in marmo E il risultato È Una Sfilza Di commenti Di polemiche E di critiche Addio Alle vecchie Comode panchine In legno Situate sul molo Del Lido di Fano La settimana scorsa Infatti Si è provveduto A sostituirle Con delle nuove Fatte in marmo E sicuramente Più resistenti All'acqua E dalla salsedine Le nuove sedute Non sono affatto Piaciute A coloro Che durante una passeggiata Amano sedersi Comodamente Ad osservare il mare Oltre ad essere Scomode e gelide Ci fanno notare I fanesi Che camminano sul molo Ad alcune Manca pure lo schienale Bocciate Bocciate del tutto Guarda Non c'è nessuno Guarda Non c'è nessuno sedere Prima erano più frequentate C'è sempre gente Perché c'è un bel posto Non ci si può manco sedere Qui È tutto bagnato Guarda Prima quelle di legno Filtrava l'acqua E quindi si asciugavano presto Per non fare Che ne so Non farle rompere Però le altre Hanno durato una vita Perché Forse bastava anche Sistemarle Pulire Sono rimasto sorpreso Questa mattina Dico Adesso vado là Vado a sedere La panchina Così mi guardo bene il mare E invece Zero Non è che sono molto funzionali Per l'inverno Già sono tutte bagnate Poi saranno anche un po' fredde Forse più funzionali Quelli che erano in legno Le panchine che c'erano prima Non erano meravigliose Ma erano comodissime Cose che invece non sono queste Va da sé che quelle senza lo schienale È chiaro che non sono comodi In più Sono di marmo Per cui Immagino D'inverno Anche in questa stagione Voglio dire Si gere il sedere Ecco Mentre invece Nelle altre Erano tutto sommato Ergonomiche E non erano poi così male Mi sembrava incredibile Che mettessero Delle panchine nuove Senza aver rifatto Il fondo del moletto Che era la cosa prioritaria A rispondere alle numerose Segnalazioni Sulle panchine del Lido È stato il sindaco di Fano Massimo Seri Ospite ieri A primo cittadino Non erano previste Per quella zona Erano panchine In magazzino Lasciarle in magazzino Diventerebbe un altro delitto Perché si ammalorano E rispiamo Di rovinarle Quindi sono state poste Su quella passeggiata Intanto Per carità Non sono comodissime Però sono sempre panchine E abbelliscono Quell'area C'è anche la pavimentazione Che non è messa bene Non per quest'estate Per quella successiva Verrà risistemata Stiamo pianificando L'intervento C'è anche un ulteriore intervento Nella cavea Si sta risistemando Il verde La sostituzione Dell'illuminazione scenica Poi verranno messe Delle palme Quindi sono anche Belli da vedere Quindi anche lì Avranno un tocco Un'eleganza Maggiore Un passetto alla volta Insomma arriviamo Da per qui Quest'anno? Sì sì Adesso stanno Penso stiano già lavorando Oppure è questione Di poco E dal Lido Ci spostiamo invece Sul lungomare di Sassonia Dove un nostro reporter Di strada Armato di cellulare Ha girato Questo video Dall'amfeteatro Rastat Che è in condizioni decenti Ci spostiamo verso L'uscita a mare E vediamo com'è la situazione Allora Qui siamo All'uscita a mare Ecco questo Il muretto di sostegno Per l'uscita a mare Si sta sgretolando Il ferro Si sta spaccando Spacca completamente Il cemento E questo succede Su ambo i lati Dopodiché Andiamo a vedere L'altra uscita Perché sono due uscite Quindi Tutto sarebbe Molto bello Anche se Onestamente Anche la parte Che dà sul mare Il parapeto Che dà sul mare Di tutto L'amfiteatro esterno Sarebbe tutto Da ritoccare Come minimo Come minimo E poi c'è L'altra uscita Che anche questa Si sta degradando Si sta rovinando Vediamo su tutti i due lati Eccolo Questa è la situazione E bisognerebbe Mettersi le mani Prima che inizi La stagione estiva Ma prima Significa che entro marzo I lavori dovrebbero iniziare Perché altrimenti Andremo a finire troppo avanti Nel tempo E questa era la video Segnalazione Adesso invece andiamo in piazza 20 settembre Dove il comune di Fano Ha messo mano All'orologio L'orologio di piazza Perché ha messo mano All'orologio Perché si è concluso L'intervento Iniziato ieri Sull'orologio E l'assessore Al decoro urbano Barbara Brunori Fa sapere Che è stato sostituito Il contrappeso Della lancetta Dei minuti Ora L'orologio Segna L'ora Giusta Allora Prima di salutarci Facciamo gli auguri A Bartolo Cristofanelli E Giacomina Mozzani Di Calcinelli Di Colli del Metauro Che oggi festeggiano Il loro 58esimo Anniversario Di matrimonio Auguri E allora Adesso Le previsioni Il tempo E la pubblicità Poi Guarda chi c'è Con Paolo Notari Che intervista Vincenzo Varagona Giornalista E scrittore Noi ci vediamo domani mattina Invece alle 7 Puntuali Con la rassegna stampa Arrivederci